Energia al minimo. Appuntamento attivato. Appuntamento attivato. Appuntamento attivato. Energia al minimo. Appuntamento attivato. Appuntamento attivato. Appuntamento attivato. Energia al minimo. Vediamo se qua trovo qualcosa. Qualche pazzo. Non hai molto tempo, Nomad. Penetra nella miniera e trovi gli ostaci. Appuntamento attivato. Eccolo qua. Lo sapevo io. Mo sei mio. Mo ti distruggo. E lo facciamo finito. Appuntamento attivato. Mo. 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 Mu. Ma si che l'ho fatto fuori Quel cazzo di carramato Ok Attenzione please Attenzione please Che l'ho L'ho beccato Ora l'ho beccato Oh no Stai stronzata Non le tolvero Vai Yes Ah Oh Non le tolvero Dove sei che mi spari? Dove sei? Oh my god Peccato che ti sei fatto maluccio Andiamo avanti E non ci vuole altro Christosan Tanto di qua non mi beccherai mai Oh merda Alta che non mi beccherai mai E cadia come Oh merda E mo? Checkpoint raggiunto Bene Almeno Ragazzi di carri armati Oh no Cristo santo Mi serve Mi servono munizioni Oh no Oh no Accuptamento attivato Aha Ah merda Llegg Oh merda Accuptamento attivato Sì, non lo vedo adesso Con quella cazzo di torcia Merda Ok Non l'ho mai visto Ma è una mano Metti una mano a questa cazzo Poi lancia missi Beh, vittarne con questo minatario E' libero gli ostaci Ma dovete dare cazzo No, ma ti ascolta Stiamo prendendo il controllo Dell'accampamento delle pc E tendiamo rinfonzi Vi fornirò tutto l'aiuto possibile Ma ci vorrà tempo per il supporto via terra Ci sono le mine qua Non vedo in basso adesso quanto cazzo è Il danno Sette Oh merda Occultamento attirato Dai, dai Colpisci Colpisci Ottimo dire Però ci sono le mine Stai pronto Stai pronto Nomad Sparchiamo dei rinforzi all'ingresso della miniera E dai Vaffanculo Cazzo Allora vediamo se funziona Oh mia tia Occultamento attivato Oh mia tia Oh mia tia Oh mia tia Preso Oh mia tia POM 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 Corazza massima Corazza massima Comportamento attivato Yes Oh mio dio Vabbè no Oh merda Corazza massima Accultamento attivato Yes Cazzo Me l'aiuto Complimenti Di cose giuste Dai No No accetto No accultamento attivato Andiamo nella miniera così mi da il trofeo PSN No mi dice Di uccidere con tutte le armi da fuoco Ma io ce l'ho Forse ce l'è ancora qualcuna È il momento di uccidere con le pistole Ho sentito dire Non puoi nasconderti Non puoi nasconderti Allora va Dove è finito Dove è finito chi Che stai parlando Oh merda Così no 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 Perfetto Meno uno l'ho preso Ancultissimo Bene Ora trova quegli ostaggi Abbiamo poco tempo Dove è finito Ma che cazzo stai facendo Non mmmm e quello se ne va mica mi aiuta un po' la merda se ne va due stronti a te ne va un team man se lesta ma un po' la merda e dai un po' la merda finito no c'è ancora una e dai con sta cazzo di armi fine? ok ora vado avanti energia al minimo tutta sta vibrazione mi sta facendo vomitare checkpoint meno male avvero? e che cazzo serve il visore notturno? che cazzo serve il segnale video se tu non ci vedi? c'è volevo dire che cazzo serve se il visore notturno se tu non ci vedi ma mi faccia il piacere ai 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 affari ultimo bad la legna con la Rattling Dove sei? Ciao scemo Credo che sia arrivato al massimo Questa Con la capienza Ok Dove Cristo Questa è la terra Imbra 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 Org mi ha testato a crollare la vigliera, addio mio! uuuh no, non è qua che devo andare oh, perfetto l'archeologa? non possiamo farlo l'attività tecnica, i picchi energetici, tutto proviene dall'interno della struttura le parole di mio padre, lui stava cercando di avvisarci capire non attenderemo oltre l'archeologa 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 cosa c'è? un attimo, forse ci sono è quasi una rilevo una strana attività elettrica all'interno della struttura ci sono fluttuazioni energetiche laddentro sta succedendo qualcosa e che cazzo è quella roba eeeh mortaccide bippo questa non me l'aspettavo ascoltami prima di perdere il contatto abbiamo ricevuto un messaggio dal sito di scavo questa non ha importanza generale, qualcosa trasmette segnali all'interno di quella struttura dobbiamo scoprire di cosa... basta! così sei tu l'assassino che ha massacrato i miei uomini no! no no, non sono stato io no non sono stato io risparmia le pozze la tua nanotuta è stata disattivata davvero? la tua missione è finita generale l'attività elettromagnetica nel tempio sta aumentando rapidamente basta così dottoressa sappiamo entrambi che questo è ben... cosa? l'ho saltato! l'ho saltato per errore ma che cazzo fatti? volevo vedere come si liberava oh merda l'energia al minimo l'energia al minimo è un cazzo eeeh dai l'energia al minimo è un po' l'energia al minimo è un po' l'energia al minimo è un po' è subito ma cazzo quanto cazzo resisti? ah no attenzione io sono perso il video volevo vedere come cazzo si liberava con lo stronzo che non mi vedi? attenzione 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 che faan culo ragazzo sei... vai scendi chi è? oppe oh mio dio ma cazzo sei... ma cazzo sei... la cazzo sei... ma cazzo sei... Muori, scemo Non ci penso per niente Io rimango qui Ando, che cazzo ho da perdere Ehi Minchia, se arrivi qua ti faccio un buco di culo E poi non te lo dimentichi Corazza massima Ma dove? Ma dove è andato? Eccolo là Non intendo perdere altro tempo Dove sei? Dove sei, biglietto? Dove sei? Queste sono tutte le mie armi Vami capire Dove è lui? Aspetta, fammi capire una cosa Tu sei fermo, ti sei buggato? Non lo so Posso rischiare però Oh no Ok, mo' funziona Oh, alle spalle La vita è secondo Secondo Kyong Alla fine non è difficile Dunque, laggiù dove? Andiamo a Ti muore C'è tutto sto tempo Ma dove cazzo sei? Indeficiente Non mi sono perso Questa vita Ma la devo cercare Ah Scusa Avanti Conosco una via d'uscita Che cazzo vuoi da me? Premi Questo posto sta per crollare Dobbiamo andarcene da qui, dottoressa Di sopra deve esserci una via di fuga Andiamo Che sei? Forze speciali americane Mio padre Si trovava al sito di scavo Lo so Non ce l'ha fatta Dispiace Purtroppo me lo sentivo Chi è? Che cazzo è un giga robo? C'è un'altra via d'uscita Si Sono qui con Elena Rosenthal Richiedo un recupero Pensi di poter scendere nella caverna? Negativo Ah che fa? Dobbiamo saltare Si sta aprendo Che cazzo vuoi? Non possiamo scendere di più Nomad La caverna ci crolla addosso Portati suono a sporgenza Dovrai saltare Forza Miss Salta Ti prendo io Ok Ma come cazzo vuoi? Tieni di parte E io che faccio? Devo solo saltare Nomad L'intero montagna sta falando Non riusciremo a tornare a prenderti Grande Abbiamo il suo segnale Nomad Trova un'altra uscita Restiamo in zona E ti recuperiamo Si va bene Grande eh A me è una cosa più stronza Voi invece Da cagare vuoi dire È morto Perfetto Perfetto Grazie a tutti.